sapete perché non si trova quasi più? perché cresce solo su dune molto alte, su dune almeno di 3 metri sul livello del mare quindi una duna bella alta, perché è una pianta che ha quelle esigenze, o meglio è questa qui che fa formare la duna è proprio la pianta per eccellenza che fa nascere una duna è questa qui, guardate un po' con dei pennacchi è tutta questa qui ho già vista! ora è io! ecco io! quindi questa qua fa queste allora, non sapete che si chiama? non dico? si si chiama Ammofila Ammofila delle spiagge non è una gramiglia si, si 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 ok? si è tutto di mare di mare ci siamo? si ci siamo? c'è che crescono altre piante piccoline 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 sono più piccole è trovate questa occhio a questa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti